conicci waa e benvenuti a tutti il mio canale sono come sempre giappogamer benvenuti a tutti qui su sonic forces allora continuiamo questa grandissima avventura platform targata siga e o meglio prodotto dalla pubblicato dalla siga ma prodotto da sonic team allora ok nell'ultimo episodio abbiamo fatto la fase 26 denominata mortal canyon nella eggman empire fortnite che insomma non vi dico è stata abbastanza tostarella ma comunque l'abbiamo passata e oggi ci andiamo a fare la fase 27 ragazzi siamo 30 arrivati quasi agli sgoccioli ragazzi e ragazze anche che mi seguite e siamo quasi arrivati alla fine di questo sonic forces per quanto riguarda l'avventura principale poi dovrebbe esserci anche il dlc dell'avventura di una seconda avventura con shadow però quello vedrò un po' come sbloccarla e come portarla sinceramente ma oggi mi concedo sulla fase 27 boss fight probabilmente contro infinite perché è scritto solamente infinite nella eggman empire fortnite se abbiamo un po' in che cosa consiste mamma mia sembra tipo guerra dei stellari vabbè ok abbiamo un po' il da fare eccola eh si patetico mortacci tua brutto bastardone si eh poi vediamo poi vediamo ti mostrerò quanto sono superiore si è superiore eh si si ti credi un re eh sei tutto fuma e niente arrosto grande sonic bravissimo così ok fase 27 eggman empire fortnite contro infinite cosa vuoi che venga spiegato sulla tua lapide tipo qui giace vai così ah grandissimo ok ok bene così superato vai così 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 vai e tre vai così bene così becca di questo brutto bastardone di infinite brutto bastardo e ce lanci ancora questi vai così 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 brutto bastardo che succede? ah si eh l'energia del rubino fantasma è ricaricata e che sei è un cellulare sei oh grandissimo grandissimo ecco il mio personaggio avatar ho detto detto la spina brutto bastardone brutto bastardone vai così 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 No cavolo Vai così Vai così Vai così Vai così Con l'avatar Dai Vai Vai così Vai così Vai Vai Beccato Iatta Iatta Vinco l'amicizia Altro trofeo Bene così Grado C Ma chi se ne frega Ok mi sei superato Completa fase 27 Bene così Ci danno un bel po' di oggetti Benissimo così Va bene così Bella sta maglietta Figa Ok Bene bene così Da infinite Sei finito Posso essere sconfitto Sbagliato Perdente Ciò che non può essere sconfitto Sono il cuore Lo spirito E i legami di amicizia Grande Sonic E mancano a te E mancano a te e ai tuoi finti compagni No Aspetta Posso ancora combattere Porca la miseria Si è dato Non smetti mai di sorprendermi Non pensavo che infinite perdesse La vittoria sarà ancora più divertente Si eh Brutto bastardone Maledetto Non credere che sia finita qui Insetto blu Perché il mio piano è solo E sofferenza Brutto baffone E va bene In caricamento Ok La fase 27 È andata Si ci sta anche Una missione SOS E la fase 25 Va bene Ok Insomma Fai tornare al titolo Così ci salutiamo In maniera degna Bene così E così qua I titoli Iniziali La schermata principale Di Sonic Forces Bene così Allora Questo episodio Ovviamente Termina qui Mi sto un attimo Come dire Centelinando Gli episodi Non li faccio più In coppia Ma li faccio Gli ultimi Questi finali Uno per uno Così insomma Anche da godermeli Un po' meglio E spero che comunque Questo episodio Di Sonic Forces Vi piaccia E se così fosse Vi invito a lasciarmi Un bel like Cerchiamo di arrivare Almeno a 5 Eh scusate A 10 likes Vi prego Almeno a 10 likes Per Per supportare Questa Questa serie Di Sonic Forces Che è veramente Un platform Incredibile A mio avviso E commentate Fagli sapere la vostra Se potete condividere Con i vostri amici Sarei veramente Molto molto felice Dal vostro Giappo Gamer È tutto Sayonara E ai prossimi episodi Giappo Gamer E ai prossimi episodi E ai prossimi episodi